Il mio nome è Giuseppe Barilaro e siamo qui a Catanzaro presso il complesso monumentale del San Giovanni per presentare la mia mostra personale grazie a tutto lo staff e al comune di Catanzaro, al comune di Cotronei che ci hanno dato l'opportunità di realizzare questo evento. Questa mostra è a cura di Lorenzo Canova e prende il nome dell'obbligo dei corpi quindi interagisce con quella che è la pittura mia personalissima, chiaramente in chiave contemporanea e dà comunque un'introspettiva di quello che è il mio pensiero artistico inerente a quello che è la produzione dei miei anni. Io ci tenevo tanto a fare una mostra chiaramente al complesso del San Giovanni. Volevo concludere qui un percorso che è iniziato molti anni fa e grazie a tutto lo staff tra cui Ottavio Porto, l'avvocato e chiaramente altre figure siamo riusciti finalmente a realizzare questo evento quindi sono felice di aver presentato e aver chiuso un cerchio che si conclude penso in modo molto positivo. Io sono Giovanni Guzzo, sono un orafo della provincia di Cosenza, cioè io ho il mio laboratorio gioieria su San Giovanni Fiore. Sono qui oggi a Catanzaro al San Giovanni per presentare una correzione che ho realizzato insieme al mio caro amico Giuseppe Barilaro. Abbiamo rappresentato la correzione Aspide, cioè un insieme di idee sia che parte dall'arte dell'orificeria, arte della scultura e arte della pittura. Abbiamo unito queste tre fasi di arti e lavorazioni per creare un'unica collezione. Io sono partito dall'arte dell'orificeria che ho fatto questa scultura in argento partendo da un'altra fila di argento, poi man mano l'ho scolpita ed è uscito fuori questo pennello che rappresenta la nostra collezione. Saranno tutti pezzi unici, numerati, con tirature uniche fino a 100 pezzi per ogni categoria di bracciale collana negli orecchini. Spero che vi piace tutto quanto quello che stiamo facendo e spero pure che ce ne saranno tante altre nei prossimi anni.